non è ancora allarme rosso ma ad avviso di molti esperti poco ci manca allora ricapitoliamo la situazione e poi vediamo anche le soluzioni negli ultimi vent'anni il gas è rimasto attorno ai 20 euro a megawatt ora e vi faccio vedere questo grafico appunto che prende in considerazione i prezzi dal 2000 al 2022 e potete vedere che appunto la media è di 20 euro a megawatt ore poi come ricordate certamente nel 2022 abbiamo prezzi folli abbiamo prezzi che si alzano moltissimo e si alzano per via di speculazione perché voglio ricordarlo che a livello di disponibilità fisica materiale di gas ne abbiamo sempre avuto non abbiamo mai avuto i tubi vuoti o parzialmente vuoti tant'è vero che proprio nel 2022 l'italia è stata pure un forte esportatore di gas cioè vendeva gas che naturalmente aveva comprato in precedenza da qualche paese arabo africano asiatico ecco allora fine 2020 e 2023 il prezzo ricomincia a calare e ve lo faccio vedere in quest'altro grafico questo tempo di arrivarci di cambiare diapositiva ecco vedete dal gennaio 2023 fino a luglio il prezzo ricomincia a scendere eh non perché la politica italiana o il governo italiano avesse fatto qualcosa di particolarmente speciale anzi non hanno imparato nulla non hanno approfittato di questa benedizione di questa bonaccia accelerando al massimo le facilitazioni per installare nuove fonti rinnovabili tutto è rimasto praticamente come sempre ed ora l'inverno è alle porte ma soprattutto come descritto da questo articolo del sole 24 ore siamo ehm in a forte rischio vi faccio vedere prima la salita eh anzi il mantenimento del prezzo nel 2023 prezzo del gas che fino a un mese fa era tra i 30 e i 40 euro a megawattora come potete vedere appunto in questa eh diapositiva ma ora fronteggiamo un rischio privigionamento per l'ottanta per cento del gas italiano alcuni dei motivi principali sono che per esempio tra Armenia ed Azerbaijan due paesi belligeranti ci sono gli accegi di scontri e sono un sono paesi che producono ed esportano gas eh nel mar Baltico c'è stato un incidente uno uno scoppio un incidente una falla eh su un gasdotto tra l'altro non si sa ancora se un incidente diciamo così spontaneo o un sabotaggio e ricordiamo invece che l'anno scorso ve lo ricorderete a settembre 2022 c'erano state le due esplosioni in due gasdotti del nord Europa poi c'è la vicenda Israele e Palestina con l'Israele che ha ridotto le esportazioni e questo probabilmente ricadrà anche sul sull'Europa per un effetto per un effetto domino e comunque Israele tendenzialmente si sta tenendo sempre di più il gas che produce per i propri consumi interni o al massimo per approvvigionare i paesi locali poi per esempio c'è l'Algeria l'Algeria che a livello geopolitico non ha condannato i recenti brutali attacchi di Hamas e quindi anche lì non si sa cosa succederà questi sono alcuni dei motivi per cui il prezzo ha ripreso a salire e adesso ci ritroviamo nuovamente a attorno ai 50 euro a megawattora contro ricordiamolo una media 2000-2020 di 20 euro a megawattora ora ricordiamoci la cosa essenziale che il gas non serve solo direttamente proprio come forma gas alle fabbriche che sono nel settore carta vetro ceramica acciaio cemento eccetera ma serve anche per produrre elettricità in Italia circa la metà dell'elettricità viene prodotta nelle grandi centrali appunto a gas per cui se si alza il prezzo del gas si alza anche quello dell'elettricità e di fatti è quello che è successo ma vediamo anche qui lo storico dei prezzi come vedete dal 2004 al 2020 il prezzo medio dell'elettricità era 50-60 euro a megawattora invece cosa è successo nelle ultime settimane che siamo tornati a 150 euro a megawattora dopo che il prezzo per tutto il 2023 si era un pochino aggiustato sui 110-100-110-120 euro a megawattora adesso con l'arrivo dell'inverno e con queste ulteriori tensioni geopolitiche siamo tornati nuovamente a sfondare quota 150 e stiamo viaggiando attorno a quota 150 euro a megawattora quindi più del doppio del prezzo che avevamo a qui eravamo abituati nel ventennio precedente ora come sempre il futuro è nelle mani dei due grandi attori politica e cittadini la politica ovviamente può fare molto noi del movimento 5 stelle abbiamo indicato da sempre nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica la soluzione strutturale quindi per abbassare strutturalmente i costi energetici mentre a livello mondiale la politica deve agire su quello che è lo scandalo degli scandali cioè quei 7 mila miliardi di euro di sussidi annuali alle fonti fossili sussidi annuali cioè significa circa 16 17 miliardi di euro al giorno di aiuti pubblici aiuti pubblici a compagnie private come sono quelle delle fonti fossili ecco se la politica deve lavorare su questo ciascuno di noi invece può fare una cosa molto efficace cioè quella di non utilizzare o meglio scegliere banche d'assicurazioni che non investano e non facciano speculazioni sulle fonti fossili sui mercati dell'energia perché dovete sapere che le banche continuano a investire moltissimo sulle fonti fossili mentre dovrebbero calare gli investimenti nelle fossili e alzarsi quelli nelle fonti rinnovabili bene queste queste banche esistono assolutamente io ve le indico e vi spiego vi do moltissimo materiale nel mio sito personale che si chiama tracce quindi lo trovate facilmente con qualsiasi motore di cerca io sono già nel giro otto ho fatto il senatore per dieci anni per il momento 5 stelle questi dieci anni ve li racconto tutti in un libro resoconto assolutamente gratuito che trovate nel sito di edizioni ambiente io ho lavorato per arrivare al super bonus 110 ho scritto la norma sulle comunità energetiche rinnovabili e mi occupo per il movimento 5 stelle di transizione ecologica avendo anche la telea sull'energia da parte di giuseppe conte bene vi ringrazio e alla prossima occasione di di trasmissione di trasmissione grazie a tutti grazie a tutti